Sindaco Brucchi è un progetto importante per Colle Parco per un costo di? Sono 1.300.000 euro di fondi PISU. Io vorrei ricordare che la scelta di questa amministrazione qualche anno fa è stata quella di spendere i 9.500.000 di fondi europei per alcune zone del nostro territorio. In particolare è stata scelta la CONA, è stata scelta Colle Parco, è stato scelto Colle Atterrato, Piano Daccio e la Gammarana. Questa scelta risale diversi anni fa perché questi quartieri? Questi quartieri perché comunque sono quartieri in forte sviluppo, quartieri che erano nati anche alcuni di questi quartieri come quartieri dormitori e comunque dove c'era necessità di opere di urbanizzazione secondaria. In particolare a Colle Parco verrà riqualificata tutta una zona, verranno riqualificati gli impianti sportivi, quindi ci sarà un'area sportiva, verrà riqualificata tutta la zona con una piazza e con un percorso ciclopedonale per intenderci nella zona dove prima c'era il canile e c'era il gattile, che poi non riuscimmo comunque a risolvere e a ridare quel territorio ai cittadini. Bene, in quella zona verrà fatto uno spazio, uno spazio aggregante, una piazza con tutto un percorso ciclopedonale, ripeto, intervento di ambienti sportivi, un intervento condiviso col comitato di quartiere e con i cittadini, quindi un intervento che abbiamo sottoposto alla loro attenzione. Insomma, un altro tassello in un percorso, ripeto, che è iniziato qualche anno fa ma che adesso comincia a giungere, come dire, nella fase attiva. Quindi il progetto andrà in gara da qui a brevissimo e presto inizieranno i lavori anche a Colle Parco, così come sono iniziati a Colle Atterrato, così come abbiamo terminato in altre zone. Quindi, insomma, siamo contenti di questa scelta. Altri comuni, tipo Pescara, hanno scelto di fare il ponte sul fiume, perché il ponte sul fiume Pescara è un ponte costruito con i fondi Pisu. Noi, diciamo, abbiamo deciso invece di spenderli per i nostri quartieri.